musica ok eccoci qua tornati in un nuovo episodio andiamo sulla barca in un nuovo episodio ok è qua vicino distruggiamo la barchetta e andiamo a prendere questo tesoro ragazzi oggi dopo aver visto One Piece facciamo anche noi il cacciatore di tesori è qua? si ok sono sotto alla X quindi è qua oh non ho fatto una pala dovrò scavare a mano la cacciatore di tesori la cacciatore di tesori è la cacciatore di tesori Eccola Buongiorno Smeraldi Pesce cotto Ferro Tanto ferro Oro E Art of the Sea Prismarine Crystal E una nuova spada Non male ragazzi Allora Questa mappa L'abbiamo vista Adesso Ci facciamo Anche Ma è uguale? Sì È uguale Va bene Ci ritriamo Questa mappa Come ricordo Abbiamo preso Anche Il nostro primo Cuore dell'oceano E Art of the Sea Ok Questa zona È esplorata E adesso Andiamo Ad esplorare A piedi La mia barchetta Questa mappa Ciò la portiamo A casa Per ricordo La facciamo fare Tutta quanta Perfetto E anche Questa mappa È fatta Perfetto Possiamo Continuare Ragazzi Abbiamo fatto Anche Il nostro Primo bottino Con Lo smiting Template E le Art of the Sea E ora Possiamo Andare Avanti Con L'esplorazione E se Riusciamo A trovare La giungla Ragazzi O il deserto O la palude Siamo A pennello Ciao Colletto No Devo utilizzare Di nuovo La barca Mi sa Eh si Dammi vedere Sono a 1676 blocchi L'altra volta Ho trovato Il bioma Dei ciliegi A più di 5000 blocchi Di distanza Quindi Sono ancora vicino Là c'è un relitto Qua ci sono Forse Già Stato Dove Era Il relitto Ecco Cavolo Non c'è niente Ecco Aiuto Aiuto Ecco E' così Così che si muore Delitto Fasullo Delitto Fasullo Deserto No Fasullo Fasullo Uf Tu quella è una spiaggia o un deserto andiamo a vedere un attimo no è una semplicissima spiaggia ragazzi grazie a tutti eeeh che canyon qua oh dai però dove devo andare per cercare una giugla mamma mia eeeh che ora eeeh che Cioè ma non è possibile Ragazzi Non è possibile Aiuto Dai non è possibile Ogni volta devo viaggiare per 4.500 blocchi di stanza Per trovare qualcosa di nuovo O magari nelle scorse episodi che abbiamo fatto sempre con esplorazione Ci è andata di fortuna a trovare gli abbi di ciliegio Che hanno aggiunto adesso E non è che trovare la giungla o la parude E altro Che invece Era una cosa vecchia Che è andata a trovare gli abbi di ciliegio Che figo quest'albero Sembra pacman Trovo solamente delle praterie Estese Estese Ma Non quello Che mi serve Come è possibile Che ogni volta devo andare a 5.000 blocchi di distanza Per trovare Quello Quello Che realmente Mi serve Oh Un villaggio Abbiamo trovato Un villaggio Andiamo Ad esplorarlo C'è anche spirit Ciao giughino Vabbè questo episodio lo farò durare No va bene ragazzi Si va bene questa durata Noi ci vediamo in un prossimo episodio Ciao a tutti belli